Ci troviamo nel poliambulatorio del Nuovo Regina Margherita ed esattamente nell'ambulatorio infermieristico, la cui responsabile è la signora Anna Maria Longano. Noi sappiamo che nell'azienda RMA sono attivi una serie di ambulatori infermieristici, uno dei più attivi e fra i primi è quello aperto qui nel Nuovo Regina Margherita. Che cosa offrono questi ambulatori infermieristici ai cittadini? L'ambulatorio infermieristico è un servizio organizzato e gestito da infermieri, eroga ai cittadini tutte le prestazioni di natura infermieristica, opera in collaborazione anche con i medici del presidio e con i medici di medicina generale per tutto quello che riguarda somministrazioni di terapie, medicazioni, prelievi ematici, aerosolterapia, rilevazione di parametri vitali e abbiamo anche la possibilità della cura e addestramento alle stomie. Per le prestazioni non è necessario l'appuntamento. Mi puoi spiegare cosa sono esattamente i parametri vitali? Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, ci sono pazienti che vengono con la richiesta del medico curante per il monitoraggio per più giorni e più volte al giorno per esempio della pressione arteriosa senza che sia necessario magari mettere un oltere o mettere un altro apparecchio che può essere fastidioso per la persona. Quindi possono venire più volte nello stesso giorno a riprendere la pressione arteriosa? Sì, il servizio è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Il servizio è gratuito? Il servizio è gratuito, sì. Non si paga un ticket? Si paga un ticket minimo per alcune prestazioni che è uguale per qualsiasi altra prestazione sanitaria. Naturalmente gli esenti non pagano. Ascolti, per avere informazioni per l'apertura eccetera il cittadino dove deve chiamare? Può telefonare alla segreteria del servizio che è al numero 06 5844 6512.